Brutto incidente all'ingresso di Caltanissetta. L'episodio si è verificato questa mattina nei pressi dell'hotel Ventura. L'incidente ha coinvolto quattro auto ma in particolare lo scontro latero frontale è avvenuto fra due auto. Una Fiat Punto che procedeva verso Agrigento e una Ford Focus che andava verso Caltanissetta. In totale sono due le persone ferite che sono state trasportate subito dall'ambulanza del 118 in codice giallo all'ospedale Sant'Elia. Uno ha riportato contusioni in varie parti del corpo, l'altro un trauma cranico ma era cosciente. Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i carabinieri insieme alla polizia stradale per eseguire rilevi del caso e ricostruire la dinamica dell'incidente. La viabilità intanto in un orario di grande traffico ha subito rallentamenti.